Ma stasera giocano gli scappati? Sì? Vabbè 3-0 con le renne hanno giocato, ma c'è pure Babbo Natale sugli spalti e la Befana li va a trovare. Comunque volevo dire che Cialanoglu ha detto io in questo momento sono il miglior centrale. No Ciala! No. Così no. No, 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 perché non lo sei tu. C'è un certo loft of cheek, Stella. Reinders? Vuoi mettere? E Musa? Oh, vuoi mettere Musa? E Pobega? Pobega? No, 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 no. Ciala. Adesso che dopo sono suscettibili. Oh, ma vuoi mettere loft of cheek, Stella? Reinders? Pobega? Cazzo, Musa? Ma stai scherzando. Loro sono i migliori. Loro hanno i migliori. Capito, Stella? 3-0. Avete vinto. Non fate cazzate. Comunque il Milan che gioca il giovedì è bellissimo. Ma che belli siete. Un bacino.